L'estate al capolinea, anzi no, a settembre tornerà nuovamente il caldo. Secondo gli esperti meteo, infatti, quella che viene chiamata l'estate settembrina dovrebbe spazzare via il maltempo di queste ore con sole e temperature nella media, facendo così felici villeggianti locali e turisti. Intanto questa mattina Scoglitti si è svegliata sotto una forte acquazzona e in tanti ne hanno approfittato per caricare in auto armi e bagaglie e fare ritorno a Vittoria. Solito paesaggio autunnale nella frazione, mentre il sole è cominciato a riapparire nella tarda mattinata e con esso anche il caldo, dopo che le temperature di sera avevano subito un brusco abbassamento. In ogni caso, ci informano sempre gli esperti, piogge temporali potranno verificarsi in alcune zone del territorio ibleo fino a domani, domenica, ma prevalere sarà poi il sole. L'inizio della prossima settimana, invece, potrà prevalere un ritorno dell'alta pressione, quindi nuovamente caldo, con tempo belle soleggiate e temperature nella media stagionale. Ne saranno, come detto, contenti, turisti, albergatori e coloro che avranno la possibilità di poter ancora trascorrere qualche giorno al mare prima di far rientro in città.